Ciao sono Tobias e ho il piacere di presentarvi il nuovo segmento che si aveva creato nelle calzature che si chiama Mountain Training. Mountain Training è un concetto studiato per la gente che va in montagna, che fa una camminata in montagna o che si allena anche per l'attività di alta montagna. La categoria Mountain Training è una categoria potenzialmente con tantissima gente. Noi abbiamo cercato di arrivare con un prodotto con una partnership molto forte che ci dà un vantaggio a livello tecnologico. Per approcciare la categoria Mountain Training abbiamo cercato una nuova partnership che ci dà una spinta a livello tecnologico e un vero vantaggio per il consumatore finale. La partnership con Michelin è una partnership che assieme abbiamo sviluppato due progetti di suole. Infatti il progetto Mountain Training contiene due prodotti. Abbiamo il prodotto Light Train e abbiamo il prodotto Ultra Train. Il prodotto Light Train è il più leggero in questo segmento. Il prodotto Ultra Train è un prodotto che ci dà anche uno supporto di motion guidance quindi che ci guida nella camminata. Parlando del modello Light Train abbiamo la tecnologia Saleva 3F System che abbiamo sviluppato ad arrivare al sistema 3F Total System. 3F Total System ci dà lo sostegno del mezzo piede che in questa tipologia di scarpa molto destrutturata e molto importante per trasmettere tutta la trazione del movimento al terreno. Assieme con il grip della suola Michelin questo è un prodotto ottimo per andare veloce in montagna e sfruttare tutta l'energia. La suola Michelin è studiata con i taselli più grandi ma vuoti all'interno che sono autopulenti. In questo modello abbiamo un taglio laterale che ci dà più adattabilità della suola al terreno. Nel modello Ultra Train abbiamo lo stesso sistema 3F Total System con un sistema quick lacing, una lacciatura veloce con un inserto qua in silicona che ci permette ad evitare punti di pressione del sistema di lacciatura quindi ci aumenta il comfort per il consumatore. La suola è studiata specialmente per un terreno più duro per la camminata. Abbiamo un taglio laterale anche qua per l'adattabilità della suola al terreno però abbiamo i taselli più piccoli alla parte esterna per facilitare le traversate in un terreno inclinato.